Siamo nascosti a Pormentera, questa splendida spiaggia di Letas, abbiamo qui due vips, la recente vincitrice Cantaville 2012, ora Tesa Marrone, la più grande ballerina latinoamericana di Via Sverna, e anche Danza del Ventre. Siamo qui, è una donna che è regista, qui giù che fa netta che appena è casca su me, abbiamo anche la regista, abbiamo qui l'operatore che non si vede ma è lui, è lui Mauro, è grandissimo. Siamo a Pormentera, alla vostra sinistra è Letas, una lingua di terra che si adagia dolcemente sul mare mediterraneo, e la destra è un po' più rimentata, la spiaggia di Levante. Sì, tanto che c'è il sole, perché è un po' più ria, non 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 è un po' più ria.